Buongiorno a tutti, io sono Francesco, lui è Andrea, siamo due studenti del sesto anno di medicina di Modena e vi vorremmo presentare un argomento che ha cominciato a essere utilizzato in clinica abbastanza recentemente. Direi di iniziare con un caso clinico. In questo caso vediamo che abbiamo un paziente che si presenta con dispnea acuta, è un paziente con BPCO già diagnosticata e oltre a dispnea si presenta con febbricola e severa ipotensione. All'emogasanalisi si presenta con un'acidosi da insufficienza respiratoria di tipo 2, infatti è ipercapnico. In questi casi una lastra del torace non si nega a nessuno, però a parte il poter vedere che i campi polmonari sono radiologicamente un po' sporchi, non ci permette di orientarci bene in una diagnosi differenziale che è abbastanza ampia, infatti potrebbe essere una polmonite, potrebbe essere un'esacerbazione di una pneumopatia interstiziale diffusa, potrebbe essere una reacutizzazione della BPCO o anche uno scompenso cardiaco. A questo punto la domanda è, esiste una metodica che senza danno al paziente, in modo economico e in modo rapido, ci possa aiutare in questa situazione? La risposta è sì, ed è l'ecografia del torace. Ecografia e polmoni non sono storicamente mai andati d'accordo, per la ragione che si spera, normalmente i polmoni sono pieni d'aria e l'aria altera la trasmissione degli ultrasuoni durante un'ecografia. Di conseguenza il polmone per essere analizzato dal punto di vista morfologico deve essere privo d'aria e di conseguenza consolidato. Ovviamente una situazione non fisiologica e per citare Daniel Lichtenstein, che fu uno dei primi medici che sviluppò questa metodica a fine degli anni 90, il polmone si vede solo se è malato. Ma quindi cosa si vede in un polmone normale? Se lo andiamo ad insonare, l'immagine è questo. Ovvero noi vediamo che è presente una linea iperecogena, quindi brillante, che è data dalla posizione dei due foglietti pleurici che si muovono uno sull'altro. Il movimento prende il nome di sliding pleurico, è normale che sia presente. Al di sotto, dove si dovrebbe essere il parenchima polmonare, si vengono a formare degli artefatti che prendono il nome di linea, se ne riesce a vedere una, e sono delle linee parallele alla linea pleurica e se ne possono presentare più di una e sono normalmente equidistanti l'una dall'altra. In questa situazione invece ci troviamo alla base del polmone di destra. Vediamo che compare nella posizione più sinistra dell'immagine un polmone fisiologico e infatti si vede sia la linea pleurica che la linea A. Nella posizione più a destra invece è presente un organo parenchimatoso che in questo caso, trovandoci a destra, è il fegato. Questo segno, questa comparsa del polmone fisiologico con la respirazione, prende il nome di segno della tendina. Spostandoci invece in una situazione di patologia, parliamo della sindrome interstizio alveolare. Nella sindrome interstizio alveolare fu proprio Daniel Lichtenstein che per primo cominciò a vedere che c'era una corrispondenza tra il quadro intact e di un impegno interstiziale con degli artefatti particolari in ecografia. Lui chiamò questi artefatti comet tails, poi in realtà adesso vengono chiamate linee B e sono delle linee iperecogene, quindi bianche, che si vedono nell'immagine in fondo, che partono dalla pleura e si portano verticalmente, andando ad abolire le linee A che sono fisiologicamente presenti. La presenza di queste linee B non solo ci permette di dire che c'è un impegno interstiziale, ma anche andando ad analizzarle, andando a vedere dove si pongono e, per esempio, la caratterizzazione della pleura, ci permettono di avere un'idea, a un ecografista esperto, dell'eziologia che sta alla base della sindrome interstiziale. Un esempio può essere questo, che è una linea B abbastanza chiara, che parte da una pleura normale, quindi sembra fisiologica, ed è tipico di un edema, infatti è un edema polmonare cardiogeno. Molto diverso è il quadro in questa situazione, in cui si vede che, per prima cosa, la pleura ha un aspetto alterato, sembra un acciottolato, e al di sotto ci sono talmente tante linee B che non si distinguono e danno quell'aspetto bianco, lattescente, che prende il nome di white lung. Sappiamo che ci sono linee B perché non ci sono le linee A che normalmente dovrebbero essere presenti. Nel caso clinico da cui siamo partiti, una delle ipotesi poteva essere una polmonite. Nel caso fosse stata una polmonite lobare, quello che si sarebbe visto all'eco era un consolidamento parenchimale e quindi, in ecografia, questa immagine. Si vede una zona di parenchima in alto, che è possibile apprezzare in ecografia, ed è attorniata da una zona ipoicogena che è liquido infiammatorio. Però, nel momento in cui ho un consolidamento, non sono sicuro che quello effettivamente sia una polmonite. Di conseguenza, è possibile utilizzare un'altra metodica, che è l'ecocolordoppler. Andando a mettere l'ecocolordoppler sulla zona di consolidamento, andiamo ad analizzare la vascularizzazione. Se la vascularizzazione è arborescente, come nell'immagine, siamo abbastanza sicuri che quella effettivamente sia una polmonite. Diverso, invece, se la vascularizzazione fosse stata più lineare, sarebbe potuto essere, invece, una telettasia, quindi un consolidamento parenchimale dovuto ad altre cause, come per esempio l'ostruzione di un bronco o la compressione esterna. A questo punto lascio la parola ad Andrea. Grazie, Francesco. Adesso andiamo a vedere due situazioni cliniche che traggono grande giovamento dall'utilizzo dell'ecografia del torace. Partiamo subito con l'opneumotorace, il quale vede nella diagnosi mediante ecografo una sensibilità prossima al 100%, quindi a sottolineare ulteriormente la rilevanza di questa metodica diagnostica. E come saprete, l'opneumotorace è appunto la separazione tra due foglietti pleurici per apposizione di una falda aerosa. Ed essendo aria, io devo andarla a cercare nelle porzioni più alte, quindi in un paziente seduto andrò agli apici polmonari, mentre in un paziente che giace su pino andrò nelle porzioni più anteriori del torace. E ponendo la sonda nelle sedi che ho descritto, quello che vediamo è questo qua. E nonostante non sembri questo è un video, e la prima cosa che salta all'occhio è una sostanziale immobilità del quadro ecografico. Questo perché quando vado a staccare la pleura viscerale da quella parietale, perché c'è dell'aria che le separa, non ho il tipico sliding pleurico che Francesco vi ha descritto essere fisiologico nel polmone sano. In più, se io vado a utilizzare la metodica definita M-MOD, sempre in ecografia, è una metodica che mi dà la possibilità di avere una sorta di sequenza temporale di ciò che accade lungo un asse ecografico preso. Ecco, in un polmone sano quello che vedrei è il segno della spiaggia. Abbiamo messo la similitudine con l'immagine, come si usa a fare, e vedete in alto c'è quella che rappresenterebbe il mare, che è di fatto una serie di linee parallele. In rappresentanza di quella che è la parete toracica, che è più o meno immobile, o comunque molto meno mobile del resto. Poi abbiamo una linea iperecogena data dalla pleura, e sotto di essa un quadro ecografico disomogeneo, che non è altro, è dato dal polmone, che si muove con gli atti del respiro, e mi dà questo risultato. Se io non ho il polmone, perché non ho il polmone in quella sede, perché c'è dell'aria, separarlo dalla parete del torace, ho un quadro ecografico di immobilità anche sotto la pleura, ed ecco giustificato il segno della stratosfera, che è un patologico indice di pneumo torace. Quindi, una volta che io ho questi reperti ecografici, cosa faccio? Col mio ecografo, dalle porzioni più alte, inizio a scendere, e mi sposto verso le zone più declivi, alla ricerca del cosiddetto lung point, il quale non è altro che il momento in cui il polmone torna a parete, e quindi la pleura viscerale torna a contatto con la pleura parietale. Di conseguenza, dal punto di vista ecografico, sarà il punto in cui io torno a vedere la situazione di polmone fisiologico, o il tipico sliding pleurico. Ecco, ora ve l'ho spiegato con le immagini, quindi col video dovrebbe risultarvi abbastanza chiaro. Vedete che dalla vostra sinistra compare un polmone fisiologico con gli atti del respiro. Lo riconoscete sempre per lo sliding pleurico e le linee A. Mentre a destra resta un pattern ecografico immobile, che abbiamo detto essere tipico dello pneumo torace. Ecco, il lung point è proprio il punto in cui c'è questo switch tra i due pattern ecografici. Vista l'importanza nello pneumo torace, vediamo un'altra situazione che per alcuni versi è simile. Infatti nel versamento pleurico abbiamo sempre una separazione di due foglietti pleurici, ma questa volta non per una falda aerosa, ma acquosa, liquida. Quindi la dovrò andare a cercare nelle porzioni più declivi. Se mi porto nello sfondato costo frenico di sinistra, vedo che in maniera anomala il polmone non è attaccato all'organo parenchimatoso sottostante, che in questo caso è rappresentato dalla milza. Infatti vedete che c'è una falda ipoecogena, che è appunto l'immagine ecografica che mi dà un versamento pleurico. La stessa cosa più o meno succede se mi sposto a destra. Infatti vedete in alto il polmone, poi la falda ipoecogena del versamento e sotto l'organo parenchimatoso, essendo a destra questo sarà il fegato. Ma quello che in più mi dà ancora l'ecografo è un pochino di sensibilità in più, visto che riesce a vedere alcuni di quelli che sono dati come falsi negativi all'Rx del torace, ma soprattutto mi permette di iniziare, di avvantaggiarmi nella mia diagnosi differenziale ed iniziare a caratterizzare il liquido che è contenuto. Qui vi abbiamo proposto un tipico esempio di versamento pleurico ipoecogeno, che molto probabilmente, se io facessi un RX a questo paziente, risulterebbe, se non identico, comunque molto simile a quest'altro, che invece ecograficamente vi appare molto diverso. Ecco, questo invece è un NPE, ma quindi un versamento pleurico ben organizzato e sepimentato. Altro caso ancora potrebbe essere, in caso di versamento ematico, quindi un emotorace, voi vedreste un versamento pleurico, un liquido, diciamo, corpuscolato, per la presenza delle emazie. Poi, volendoci spingere ancora più nell'approfondimento, un ecografista esperto, certo molto più di noi, riesce a distinguere un essudato da un trassudato, in quanto l'essudato è più ricco di proteine e quindi risulta anche più ecogeno. Abbiamo visto quindi quelle che sono queste due situazioni in cui è importantissimo l'ecografia del torace. Vediamo adesso, rapidamente, per finire, gli altri utilizzi specialistici dell'ecografia del torace, facendo una menzione d'onore, diciamo, per quella che è l'analisi della funzionalità diaframmatica mediante ecografo. Con l'ecografo, come lo vedo il diaframma? Vedo due linee iperecogene, più o meno parallele. Queste due linee sono la pleura e il peritoneo che stanno sopra e sotto il diaframma. Quindi, misurando la distanza tra queste due linee, io ottengo di fatto lo spessore del diaframma. E, facendo queste misurazioni in inspirazione ed in espirazione, riesco a definire, mettendole dentro questa formula questa formula che noi per completezza abbiamo anche riportato, ottengo il delta TDI. Forse a molti di voi non interessa il delta TDI, perché è più di pertinenza pneumologica, ma quello che mi dice è molto importante, ovvero, con un rapidissimo calcolo, riesco a definire il diaframma come funzionante, ipofunzionante o paralitico. E, avendo visto come si vede il diaframma in ecografia, riuscite anche qui a vedere la differenza tra quello che è un diaframma sano come questo, e voglio sperarlo perché è il mio, ed un diaframma patologico come quello che vi mostro tra poco. Qui vedete che dalla vostra destra compare, col segno della tendina, un polmone fisiologico, sempre riconoscibile per lo sliding pleurico e le linee A. Mentre, alla vostra sinistra, abbiamo un organo parenchimatoso, in questo caso è il fegato, sovrastato da queste due linee iperecogene, più o meno parallele. Ecco, quello è il diaframma. E vedete che durante la fase inspiratoria, aumenta il suo spessore perché compie il suo movimento attivo, mentre durante la fase espiratoria compie un movimento passivo, quindi riduce il suo spessore. Avendo visto un diaframma sano, vi risulta evidente come sia diverso da questo, che invece è un diaframma paralitico. Lo riconoscete sempre per le due linee iperecogene, più o meno parallele, ma vedete che sostanzialmente è immobile, non si muove, non cambia il suo spessore con gli atti del respiro. Esistono poi tanti altri utilizzi dell'ecografia del torace, che per motivi di tempo non abbiamo voluto o potuto approfondire. Quello che a noi, preme che vi rimanga, sono i cosiddetti take-home messages, ovvero che il polmone si può insonare e lui mi restituisce degli artefatti, quali è importante che io sappia caratterizzare. Tra questi, le linee A sono fisiologiche e sono parallele alla pleura, mentre le linee B sono patologiche, sono perpendicolari ad essa. Che lung point vuol dire pneumotorace, e qui ci teniamo ancora una volta a sottolineare la diretta corrispondenza tra l'evidenza di lung point e la diagnosi di pneumotorace, che nel versamento pleurico, come già detto, ha il vantaggio di poter iniziare a caratterizzare il liquido contenuto, ed infine che, come tutte le metodiche ecografiche, anche questa, se la si sa fare, è molto rapida, è dinamica, con i suoi pro e i suoi contro, ma soprattutto non utilizza radiazioni ionizzanti, quindi non dà alcun danno biologico al paziente. Con questo, noi speriamo di aver suscitato in voi un po' di curiosità per questa metodica diagnostica che, a nostro avviso, sarà un po' il cavallo di battaglia dell'internista della nostra generazione, e ovviamente vi ringraziamo per l'attenzione. Complimenti ragazzi, perché rispettate tutti perfettamente i tempi, molto meglio di quanto non siano i congressi dei vostri professori. Posso dirvelo proprio per lunga, ormai, esperienza. Ecco, se c'è qualche domanda, ne vediamo subito una là in fondo. Salve, io volevo chiedere quali sono le possibili applicazioni cliniche e dello studio della funzionalità diaframmatica. Allora, beh, sono tante, però secondo me un caso, diciamo sempre un caso clinico può aiutare. Voi immaginatevi un paziente che si presenta con dispnea acuta e che chiaramente dovete iniziare a supportare in un qualche modo nella ventilazione. in veramente molto meno di 5 minuti con un ecografo a disposizione, come c'è in UTIR dove frequentiamo io e lui, ma in realtà anche nelle altre medicine interne, voi potete fare rapidamente questa ecografia del torace e ottenere quindi la diagnosi di diaframma funzionante, ipofunzionante o paralitico. Chiaramente io, dovendo supportare la ventilazione, in questo modo oltre a sapere, avere un po' un'idea della prognosi, e ci sono diversi studi in atto, per esempio nelle riacutizzazioni della BPCO, quindi nelle acuzie, ma anche in cronico nella SLA. Io posso andare a capire se a questo paziente potrà trarre giovamento da una ventilazione non invasiva, quindi se è un diaframma che riesce a funzionare, a fare il primo step ispiratorio, io posso mettergli una ventilazione non invasiva. Se invece ha un diaframma paralitico, mi devo aspettare, se non nell'immediato, comunque nel futuro più prossimo, di dover intubare questo paziente. Buongiorno. No, il mio più che altro è un dubbio. Mi chiedevo, perché si vede il diaframma sopra il fegato e non tra fegato e polmone? È una cosa che ci siamo domandati tutti la prima volta che abbiamo visto un'ecografia, infatti avevamo aggiunto una slide in fondo perché era, immaginavamo che, cioè io ci ho messo un po' per capirlo, perché dopo mi hanno fatto vedere questa immagine che ho rubato al professor, al dottor Marchioni, che ringrazio, che è questa. e l'eco viene appoggiata, la sonda ecografica viene appoggiata alla parete laterale del torace, quindi quello che si vede in realtà è l'inizio della cupola diaframmatica, cioè anzi, sì, l'inizio della cupola diaframmatica, poi il fegato sotto e sopra il polmone. Il polmone, se non è consolidato, presenta una colonna d'aria che non fa vedere la cupola diaframmatica. cupola diaframmatica che invece si può vedere se andiamo a vedere, adesso dovrebbe esserci da qualche parte, e un versamento, adesso lo trovo subito, no, cosa sto facendo? No, ho sbagliato. Vabbè, comunque, in un versamento si riesce a vedere perché viene ad essere abolita la colonna d'aria che impediva la visualizzazione della cupola, per cui è per quello che si vede laterale. Ci sono Pietro Torricelli della Radiologia. Volevo complimentarmi, è veramente un'ottima lezione, traspare molto entusiasmo, tutte le metodiche nuove, giusto che suscitino molto entusiasmo, condivido molti di questo entusiasmo per quanto riguarda alcune applicazioni su cui avete giustamente enfatizzato la presentazione, la diagnostica del versamento pleurico, la diagnostica della mobilità diaframmatica. Suggerirei un pochino di cautela, però, nel proporre questa metodica come un'alternativa alla valutazione radiografica, cosa che mi è parsa di cogliere nelle prime diapositive. Nel senso che, se mi lasci finire, nel senso che io credo che la diagnosi di certe patologie, ho sentito parlare della WIP, o genericamente di una sindrome intestiziale alveolare, credo che difficilmente possa prescindere da uno studio di altro tipo, mentre io la sosterrei, e molto fortemente, questa metodica, A come metodica complementare alla radiografia, B come metodica anche esclusiva, per esempio, nella popolazione pediatrica, dire se c'è o non c'è un versamentino pleurico, è correttissimo utilizzare quello, oppure ancora, nel follow up di patologie che abbiano già avuto una diagnosi abbastanza circostanziata. Sì, è vero. Cioè, noi abbiamo iniziato con un caso clinico in cui le possibili diagnosi differenziali, appunto, erano alcune che con l'ecografo non traggono una risposta valida. altre, invece, come può essere la polmonite, potevano trovare giovamento dall'utilizzo dell'ecografia. Poi, quello era, diciamo, per rompere il ghiaccio, per partire. Dopo, quello che è importante è che rimanga che ci sono alcune situazioni cliniche, come quelle che poi abbiamo descritto più approfonditamente, in cui l'ecografo mi dà un'idea, non tanto della diagnosi nell'immediato, magari io posso anche dire che posso diagnosticare la patologia o la situazione clinica con altre metodiche come, per esempio, la TAC. Però, non posso fare una TAC continuamente a un paziente. Quindi, in un reparto in cui l'ecografo è a disposizione, per fortuna, come quello che abbiamo l'opportunità di frequentare noi, posso continuamente capire se il mio paziente, per esempio, è diventato disponibile immediatamente perché si è aggravato il quadro o per altre motivazioni. Quindi, gli metto un ecografo subito. Per cui, ci aspettiamo una netta riduzione delle richieste di TAC. Eh, ma le TAC non le chiedo io. Grazie.